Stadio. Sala è assolutamente Ponzio Pilato, cioè se ne lava assolutamente le mani. Non convoca la commissione tergiversa sull'apertura di un dibattito pubblico sul tema Milan-Inter. Cosa fanno? Legittimamente guardano altrove, anche perché ci sono altri sindaci che non se lo fanno dire due volte che domani mattina metterebbero la città a disposizione per avere ovviamente uno stadio. E' arrivato il sindaco di Milano ad affermare che se lo stadio andasse per esempio a Sesto sarebbe un problema per i cittadini arrivare in Duomo, cioè non ha mai preso la metropolitana, non sa neanche che c'è la linea rossa che arriva diretta, cioè ci vuole più tempo da San Siro ad arrivare in Duomo che da Sesto Marelli, giusto per darci due informazioni base. Insomma, capisco che uno poi rimane nella cerchia di doazione e si muove in monopattino, però uno magari che fa il sindaco una volta, la metro la prende e capisce, almeno guardi la mappa delle reti e non dici ste vogliate, tra l'altro se sei anche sindaco della città metropolitana, tra le altre cose. Insomma, il bene della città comunque secondo me non deve essere secondario ai diktat di quattro verdi che abbiamo in comune.